Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi da fare con un amico Ed è l'unico requisito necessario Allora, non serve com, non serve centro operativo, non serve un cazzo Serve solamente la base operativa e un amico Questo amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare in start, online, attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano E dovrà rimanere nella missione con la sessione chiusa ragazzi In maniera tale che noi non possiamo unirci E dobbiamo essere nel party con il nostro amico In maniera tale da poter fare partecipa a sessione Quindi passiamo al glitch Vi farò vedere prima due esempi da non fare Ok ragazzi, allora Il primo esempio Facciamo partecipa a sessione dal nostro amico Quindi andremo nel party Faremo partecipa a sessione E dopo di che Dopo che abbiamo fatto partecipa a sessione Dobbiamo accelerare ragazzi Allora, se tra i due messaggi vedete l'animazione che vi sta mandando alla nuvola Il glitch non sta funzionando ragazzi Voi tra i due messaggi dovete avere schermo nero Quindi Rifiutate il messaggio Cioè, accettate il messaggio E rientrate in base operativa Perché non sta funzionando? Perché quando usciamo dall'auto Noi in mappa non dovremmo vedere l'auto Secondo esempio ragazzi Sempre sbagliato Allora Andiamo nel party Facciamo partecipa a sessione Acceleriamo appena Siamo nell'auto E accettiamo Il primo messaggio Allora Noi abbiamo visto lo schermo nero Che è quello che in pratica serve a noi per far baggare il gioco Però abbiamo accettato il secondo messaggio molto velocemente Cosa che non dovete assolutamente fare ragazzi Dovete permanere nel secondo messaggio Almeno una cinquantina di secondi Adesso lo vado a fare in maniera corretta Faccio partecipa a sessione Accelero Schermo nero Accetto il primo messaggio Ho la schermata nera Quindi significa che il glitch sta funzionando E aspetto una quarantina di secondi ragazzi 40-50 secondi più o meno Io qui ovviamente ho mandato leggermente in velocità La schermata nera era in per due Quindi sembreranno 25 secondi A questo punto accettate il secondo messaggio E vi troverete in questa situazione Non necessariamente Vi potrete anche trovare su mappa Però l'importante è che l'auto non sia in mappa Adesso andremo a vedere Se vi trovate in questa situazione Batterà accelerare L'auto cadrà sotto mappa E vi troverete in strada Adesso vi faccio vedere ragazzi Io sono qui Scendo dall'auto E l'auto in mappa non c'è Come potete vedere Quindi il glitch ha funzionato Dopo questo passaggio Possiamo andare in garage Per depositare il veicolo Quindi che faremo? Andremo in un garage Dove avremo delle LGRH8 Come nel mio caso Butteremo fuori Una LGRH8 E la rimpiazzeremo Con l'auto che stiamo duplicando Ragazzi Mi raccomando Adoperate tardi e personalizzate Come vedete L'auto non scompare Perché non è in mappa Il gioco non la riconosce in mappa L'auto non scompare E noi possiamo mettere L'auto dentro il garage Guardate cosa succede Appena immetto l'auto nel garage Automaticamente si bugga Ne compaiono due Ci butta fuori dall'auto Però l'altra una rimane Ragazzi Quindi a questo punto Come vedete Io ho la targa personalizzata Ritorniamo in base operativa E vi faccio vedere Che l'altra auto Che io ho usato Per duplicare È presente in base operativa Quindi a questo punto Vado nella base operativa Vi faccio vedere Mi da base operativa piena Come l'avevo prima Del resto Rimando questo veicolo in deposito Entro nella base operativa E vi faccio vedere Che l'auto c'è L'unico passo che dovete fare Quando entrate in base operativa Dopo aver duplicato il veicolo Che solo a volte è necessario Non sempre È scambiare i veicoli Perché Quando si va a vedere il veicolo Non c'è Come in questo caso Adesso vi faccio vedere Se io vado su Per vedere il veicolo Come vedete In quel pozzo lì Non c'è il veicolo Quindi a questo punto Scendiamo Andiamo al pallino azzurro E facciamo uno scambio Di veicoli È semplicissimo ragazzi L'importante È seguire bene Attentamente La prima parte del video E capire cosa fare E cosa non fare Come vedete Io adesso faccio lo scambio E l'auto ricompare E siete pronti nuovamente Per fare il glitch Il vostro amico Dovrà rimanere Sempre in quella posizione Quindi fate Salite in auto Doppio tasto PS Partecipa Accelerate ragazzi Allora Io qui Non ero sicuro Di quando arrivava il messaggio Comunque Vedete Accelerate C'è la schermata nera Ovviamente Dopo che avete accettato Il primo messaggio E nel secondo messaggio Rimanete sempre Quella Famosa Cinquantina di secondi A questo punto Quando avete aspettato Questa famosa Cinquantina di secondi Qui non ho mandato In velocità Quindi Vi rendete conto Più o meno Del tempo Che ci impiega Premete X Per accettare Il messaggio E come vedete Questa volta Ragazzi Non sono buggato Ma sono in mappa Scendete dall'auto Se l'auto Non è presente in mappa Il glitch Ha funzionato Il glitch È semplicissimo Ragazzi L'importante Come ho detto A prenderci la mano E capire bene Come funzionano I primi passi Ciò che dovete fare Ciò che dovete fare E ciò che non Dovete fare Quindi A questo punto Entrate nel garage Prendete la LG La buttate fuori E ci mettete dentro La Sultan Il glitch È questo ragazzi Oggi verificherò Anche Gli altri glitch Se funzionano Detto questo Che altro dire Ragazzi Approfittate Di questo glitch Se troverò Un glitch Da fare da soli Sicuramente Ve lo porterò Sul canale Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti